Ed eccoci tornati in diretta dal salone che non c'è, questa volta con Audi. Eh sì, perché la casa di Ingolstadt aveva scelto proprio la Kermess svizzera per presentare uno dei suoi modelli più importanti dell'anno. Sto parlando della nuova A3, quindi della loro compatta. La prima serie arrivò nel lontano 1996 e oggi nel 2020 siamo qui a raccontarvi tutti i dettagli della quarta generazione. Allora, meccanicamente sotto questo nuovo vestito cosa si nasconde? Beh, la piattaforma modulare MQB. Quindi anche la nuova A3 condivide la meccanica di tutte le sue cugine del gruppo Volkswagen per quanto riguarda le applicazioni a motore trasversale. La base meccanica è rimasta la stessa, ma tutto intorno i tedeschi hanno riprogettato da zero quest'auto. Obiettivo, beh, farla apparire molto più sportiva, molto più aggressiva e molto più amalgamata con la nuova gamma Audi. E lo vedete subito dal design che si adegua, secondo me, alla perfezione, al family feeling più recente del marchio dei quattro anelli. Quindi calandra single frame anteriore più larga e più bassa, quindi più prominente, anche più cattiva. E anche tutti nuovi i gruppi ottici, che ovviamente sono full LED, matrix sulle versioni più ricche dal punto di vista degli equipaggiamenti, con una particolarità però tutta legata alle luci diurne. E questo mi fa sorridere perché sembra proprio che gli ingegneri Audi siano un po' fissati con le luci diurne. Ricordate tanti anni fa furono tra i primi a introdurre le luci diurne con i LED, che dall'epoca erano tanti pallini, poi le hanno evolute nel corso degli anni con la tecnologia a disposizione. E ora, su nuova A3, prevedono questi 15 diodi che mettono in scena un motivo specifico a seconda della versione. Per esempio, l'S3, la sportiva più cattiva che sarà disponibile, diciamo, al lancio, prima della RS3 a 5 cilindri, mette in atto un motivo a doppia banda verticale che richiama un po' le luci diurne dei modelli più sportivi di casa Audi. Mentre la versione base usa delle linee orizzontali, quindi usano la firma luminosa per personalizzare anche gli allestimenti. Gli indicatori di direzione rimangono dinamici, anche qui molto originali, anche in questo Audi è stata pioniera, ma andiamo dentro. Dentro ritroviamo in parte l'impostazione delle Audi più ricche, attualmente in gamma, diciamo, da A6 in su, almeno nella fascia alta della plancia. Non nella fascia bassa perché non ho l'impostazione con il doppio display. Comunque, il display centrale 10.1 pollici, touch, ovviamente, è inclinato verso il guidatore per dare più idea di sportività, per far sentire il guidatore maggiormente avvolto da tutta la strumentazione. Audi Virtual Cockpit 12.3 pollici, lo conosciamo benissimo, altamente personalizzabile, super risoluzione davanti al guidatore, con tutte le informazioni radunate lì. Cambia però, ovviamente, il sistema operativo, quindi il cervellone dietro tutti questi display. Abbiamo una piattaforma Mib 3, quella condivisa anche qui con le Audi di alta gamma, e quindi una potenza di calcolo infinite volte superiore a quella della vecchia A3. E poi un po' di novità anche dal punto di vista dello sguardo al futuro, perché l'Audi A3 mette in atto le prime operazioni di Car2X. Cosa vuol dire? Che l'Audi A3 è una delle prime auto che riesce, riuscirà a comunicare non solo con gli altri veicoli, a ricevere da loro informazioni, ma anche con alcune infrastrutture. Per esempio, sarà in grado di comunicare con i semafori abilitati e di adeguare la velocità in modo da avere l'onda verde, da beccare tutti i semafori verdi, il mio sogno, a Milano, che non mi succede mai, dove si potrà fare per ora a Ingolstadt e a Dusseldorf, due città tedesche dove ci sono questi semafori che potranno comunicare con le A3, e poi, ovviamente, una tecnologia destinata ad arrivare anche in altre metropoli europee. A livello di motorizzazioni abbiamo un po' i cavalli di battaglia per applicazioni trasversali del gruppo Volkswagen, e quindi a lancio ci sarà il 1.5 TFSI, 150 CV, quindi 4 cilindri, turbo-benzina. E poi ancora il diesel, lo sapete, su questa generazione di auto il gruppo Volkswagen continua a puntare sul diesel, lo fa con la Golf, lo farà con la Seat Leon e lo fa anche con la A3, quindi 2.000 TDI, sparisce il 1.6, 116 o 150 CV e doppio sistema post-trattamento gas di scarico con iniezione di urea per avere comunque un diesel, ma per renderlo omologabile con le più stringenti normative. E poi, più avanti, arriverà anche il millino, tre cilindri, entry-level, 1.000 TFSI, 110 CV, sei marce manuale, rimane il manualone, meno male, ma anche ovviamente S-Tronic, doppia frizione, a sette rapporti. Attenzione, una novità, ci sarà anche qui un mild hybrid, un po' come su Golf, che però sarà abbinato solo al 1.5 TFSI, un mild hybrid corretto a 48 Volt, quindi un mild hybrid ben fatto, che darà 12 CV in più e 50 Nm per metro di piccolo aiutino ibrido durante le ripartenze. Più avanti, non ci saranno le solite versioni a trazione anteriore, ma anche quelle integrale 4, integrale 4 ovviamente per applicazione a motore trasversale, quindi di base una trazione anteriore che manda dietro motricità solo quando serve, ma più avanti arriveranno anche libri da plug-in, proprio come su Golf, e anche la interessantissima, soprattutto per il mercato italiano, variante G-Tron a metano. Gli ammortizzatori regolabili rimangono a controllo elettronico, sopra i 150 CV a retrotreno spunta un bel multilink e questo significa che per esclusione vuol dire che sotto i 150 CV ci sarà il classico, più economico, ponte torcente. È più larga di 3 cm rispetto al passato, ecco perché la vedete così bella acquattata per terra ed è lunga, 4,34 metri, quindi una classica segmento C, bagagliaio 380 litri, insomma tutta nuova questa 3, la notizia secondo me è il suo design, veramente molto più aggressivo, gli ingegneri tedeschi però dicono e promettono di aver curato anche molto di più la dinamica di guida, per esempio la trazione integrale cerca di mandare più coppia motrice al posteriore e promette di farlo in una maniera più rapida, più repentina, quindi più coppia dietro lo sapete, vuol dire un po' più di divertimento e meno sottosterzo, ci sarà anche lo sterzo progressivo, insomma un Audi che punta sul design, sulla tecnologia ma anche sul piacere di guida, però questo lo vedremo quando la guideremo. A voi è piaciuta la nuova Audi A3 e quale vi piace di più del trio? La Golf o la Leon? Beh, raccontatemelo nei commenti qui sotto, ciao, alla prossima novità del salone che non c'è. Ciao!